Capitolo 7 Le malattie come quella che aveva colpito Armand hanno di bello che o uccidono sul colpo o si lasciano debellare molto rapidamente. Quindici giorni dopo i fatti che ho raccontato, Armand era in piena convalescenza e noi eravamo legati da una profonda amicizia. Erano rare le volte che avevo lasciato la sua camera da letto durante tutto il periodo in cui si era protratta la malattia. La primavera aveva seminato profusamente i suoi fiori, le sue foglie, i suoi uccelli, le sue canzoni e la finestra del mio amico si apriva allegramente sul giardino, le cui sane esalazioni salivano fino a lui. Il medico aveva concesso che si alzasse e noi restammo spesso a chiacchierare, seduti accanto alla finestra aperta nell'ora in cui il sole è più caldo, da mezzogiorno alle due. Mi guardavo bene dal parlargli di Marguerite, sempre temendo che quel nome risvegliasse un triste ricordo, sopito, sotto la calma apparente del malato, ma al contrario Armand sembrava dilettarsi nel parlare di lei, non più come una volta, con le lacrime agli occhi, ma con un dolce sorriso che mi rassicurava sul suo stato d'animo. Avevo notato che dalla sua ultima visita al cimitero, dallo spettacolo che aveva causato quella crisi violenta, la misura della sofferenza morale sembrava essere stata colmata dalla malattia e che la morte di Marguerite non gli apparisse più come gli era apparsa in passato. Una specie di consolazione era scaturita dalla certezza provata e per sfuggire dall'immagine oscura che spesso gli si presentava e gli sprofondavano i ricordi felici del legame con Marguerite e pareva non voler più accettare che quelli. Il corpo era troppo sfinito dall'aggressione e anche dalla guarigione e dalla febbre per permettere allo spirito un'emozione violenta e la gioia primaverile e universale da cui Armand era circondato gli riportava il pensiero su malgrado verso le immagini sorridenti. Si era sempre ostinato nel rifiuto di informare la propria famiglia del pericolo che correva e anche quando fu salvo il padre ne ignorò la malattia. Una sera eravamo rimasti alla finestra più a lungo del solito, c'era stato un tempo magnifico e il sole si andava assopendo in uno sgargiante crepuscolo di azzurri e dorati. Benché ci trovassimo a Parigi la vegetazione che ci circondava pareva isolarci dal mondo e solamente di tanto in tanto il rumore di una carrozza disturbava la nostra conversazione. È all'incirca in questo periodo dell'anno. È la sera di un giorno come questo che ho conosciuto Margherita. Mi disse Armand ascoltando i propri pensieri e non quello che gli dicevo io. Non dissi niente. Allora si voltò verso di me e mi disse. Devo proprio raccontarvi la storia. Voi ne trarrete un libro al quale nessuno crederà ma che forse sarà interessante da scrivere. Mi farete il racconto più tardi. Gli dissi. Non siete ancora ristabilito del tutto. La serata è mite. Ho mangiato un petto di pollo. Mi disse sorridendo. Non ho più la febbre. Non abbiamo niente da fare. Vi racconterò tutto. Dato che lo volete a tutti i costi vi ascolterò. Si tratta di una storia alquanto semplice. Aggiunse allora. Che vi racconterò seguendo l'ordine degli avvenimenti. Se deciderete di farne qualcosa più avanti sarete anche libero di narrarla diversamente. Ecco quanto mi riferì. Ho modificato qualche parola appena di questo toccante racconto. Sì. Riprese Armand lasciando cadere il capo sullo schienale della poltrona. Sì. Era una serata come questa. Avevo passato la giornata in campagna con un amico. Gaston. Eravamo tornati a Parigi la sera. E non sapendo cosa fare eravamo andati a teatro ai vari etè. Durante la pausa uscimmo e nel corridoio vedemmo passare una donna alta che il mio amico salutò. Chi salutate? Gli chiesi. Marguerite Gauthier mi rispose lui. Mi pare molto cambiata. Non l'avevo riconosciuta. Gli dissi colto da una tale emozione che presto capirete. È stata ammalata la poveretta. Non ne avrà per molto. Mi ricordo quelle parole come se mi fossero state dette solo ieri. Dovete sapere amico mio che erano due anni che quando la incontravo la vista di quella ragazza mi provocava una strana impressione. Senza che io ne sapessi il motivo, impallidivo e il mio cuore batteva violentemente. Ho un amico che si occupa di scienze occulte e che definirebbe quanto provavo affinità dei fluidi. Da parte mia credo semplicemente di essere stato predestinato a innamorarmi di Marguerite e che lo presentivo. Lei mi provocava sempre una impressione vera di cui diversi miei amici erano stati testimoni e ne avevano riso parecchio capendo da dove giungesse tale emozione. La prima volta che l'avevo vista era stata in place della borsa all'ingresso di Sus. Vi sostava un calesse scoperto e una donna vestita di bianco ne era scesa. Un mormorio di ammirazione ne aveva accolto l'ingresso nel negozio. Quanto a me resta inchiodato al mio posto dal momento in cui entrò fino a quando non uscì. Attraverso le vetrate la guardavo scegliere ciò che era venuto ad acquistare. Sarei potuto entrare ma non osavo. Non sapevo che donna fosse e temevo che potesse intuire il motivo del mio ingresso nel locale e che potesse risentirsene. Ciononostante non credevo di poterla incontrare un'altra volta. Era vestita con eleganza, indossava una gonna di solina tutta drappeggiata, uno scialle indiano quadrato con angoli ricamati d'oro e fiori di seta, un cappellino di paglia italiano e un unico bracciale, una catena d'oro massiccio che stava diventando di moda in quel periodo. Rimontò sul calesse e partì. Un commesso del negozio restò sulla porta seguendo con gli occhi la carrozza dell'elegante cliente. Mi avvicinai pregandolo di dirmi il nome della donna. È la signorina Marguerite Gautier, mi rispose. Non osai chiedergli l'indirizzo e mi allontanai. Il ricordo di quella visione, poiché tale era stata, non mi abbandonava, come invece era capitato altre volte in passato, e cercavo ovunque andassi quella donna pallida di una bellezza così regale. Dopo qualche giorno diedero un grande spettacolo all'operaco Mick. Andai. La prima persona che vidi, in palco, in galleria, fu Marguerite Gautier. Anche il giovanotto con cui mi trovavo la riconobbe. Lei scorse il mio amico, gli sorrise, e fece cenno di raggiungerla. Vado a salutarla, mi disse, torno tra un istante. Non potei impedirgli di dirgli che fortuna che avete. E di che cosa? Di andare a salutare quella donna? Ne siete innamorato? No, dissi arrossendo, perché non sapevo proprio a cosa rispondere, ma mi piacerebbe conoscerla. Allora venite con me, ve la presenterò. Chiedetele prima il permesso. Ah, per Diana, non è il caso di disturbarsi con lei. Venite. Quello che disse mi ferì, tremavo all'idea di scoprire che Margherita non meritasse ciò che provavo per lei. In un libro di Alphonse Carr, intitolato Amrushen, si racconta di un uomo che una sera segue una donna molto elegante di cui si è innamorato a prima vista per la sua bellezza. Pur di baciare la mano della donna, sente dentro di sé di poter fare e intraprendere qualsiasi cosa, il coraggio di fare tutto. Osa appena guardarne la calza graziosa che lei scopre per non sporcare la gonna che tocca al suolo. Mentre egli pensa tutto quello che farebbe per poterla avere, la donna si ferma all'angolo di una via e gli chiede se vuole salire da lei. Egli gira la testa, attraversa la strada e torna tutto triste a casa sua. Mi ricordavo di questa lettura, io, che avrei voluto soffrire per quella donna, temevo che mi accogliesse troppo in fretta e che mi desse troppo presto un amore che avrei voluto pagare con una lunga attesa a un grande sacrificio. Noi uomini siamo fatti così ed è un bene che l'immaginazione lasci la poesia ai sensi e che i desideri del corpo la concedono ai sogni dell'anima. Insomma, se mi fosse stato detto avrà questa donna stasera e domani sarà ucciso, io avrei accettato. Mi fosse stato detto pagate dieci Luigi e ne sarete l'amante. Avrei rifiutato e pianto come un bambino che al primo risveglio vede svanire il castello intravisto durante la notte. Eppure volevo conoscerla. Era un modo, forse l'unico, per sapere cosa pensare sul suo conto. Così dissi al mio amico che sarei stato lieto se fosse riuscito a ottenere il permesso di presentarmi e vagabondai lungo i corridoi immaginando che, a partire dal momento in cui lei mi avesse incontrato, io non avrei saputo come comportarmi davanti al suo sguardo. Provavo a formulare prima le parole che le avrei detto di lì a poco. Che sublime infantilismo è mai l'amore. Un istante dopo il mio amico scese. Ci aspetta? Mi disse. È sola? Chiesi io. Con un'altra donna. Non ci sono uomini? No. Andiamo. Il mio amico si diresse verso la porta del teatro. Ma non è questa la direzione? Gli dessi. Andiamo a comprare dei dolcetti. Mi li ha chiesti lei. Entrammo in una confetteria nel passaggio dell'Operà. Avrei voluto comprare l'intero negozio e mi chiedevo con che cosa riempire il sacchetto quando il mio amico chiese mezzo chilo di uvetta candita. Sapete se le piace? Non mangia mai altri dolci, è noto. Ah, continuò quando fumo usciti. Non sapete a che donna vi sto presentando? Non immaginatevi una duchessa, è solo una mantenuta. È il massimo della mantenuta, mio caro. Quindi non preoccupatevi più del dovuto e dite pure tutto quello che vi passerà per la testa. Bene, bene. Balbettai. E lo seguì, dicendomi che stavo per guarire dalla mia passione. Quando entrai nel palco Margherita era piegata in due dalle risa. Avrei voluto trovarla triste. Il mio amico mi presentò. Margherita fece un lieve cenno del capo e disse. E i miei dolci? Eccoli qui. Mentre li afferrava mi guardò. Io abbassai lo sguardo arrossendo. Lei si avvicinò all'orecchio della vicina, parlò a bassa voce ed entrambe scoppiarono a ridere. Ero sicuramente io l'origine di tanta ilarità e il mio imbarazzo raddoppiò. A quell'epoca la mia amante era una piccola borghese molto tenera e molto sentimentale, il cui sentimento e le cui lettere melanconiche mi facevano ridere. Compresi il male che le avevo fatto in quello che stavo provando io e per cinque minuti la mai come mai donna fu amata. Margherita mangiava l'uvetta senza più occuparsi di me. Colui che mi aveva introdotto non volle lasciarmi in quella situazione ridicola. Margherita, fece lui, non dovete sorprendervi se il signor Duval non vi parla, voi lo sconvolgete al punto che non trova le parole. Io credo piuttosto che il signore vi abbia accompagnato qui perché a voi non andava di venire da solo. Se così fosse, dissi io a mia volta, non avrei pregato Ernest di chiedervi il permesso di presentarmi. Forse non era che un modo per ritardare il momento fatale. Per quanto poco si siano frequentate ragazze del genere di Margherita, si conosce il piacere che provano nel fare le spiritose e nel punzecchiare le persone che incontrano per la prima volta. Si tratta forse di un modo per vendicarsi delle umiliazioni che sono state spesso costrette a subire da parte di coloro che incontrano tutti i giorni. Per questo serve una certa abitudine al loro mondo per rispondere, abitudine che io non possedevo. Inoltre l'idea che mi ero fatto di Margherita esasperò i suoi scherzi. Niente mi era indifferente da parte di quella donna. Così mi alzai dicendole con voce alterata che mi fu impossibile nascondere del tutto. Se questo è quello che pensate di me, signora, non mi resta che chiedervi perdono per la mia indiscrezione e congedarmi assicurandovi che non accadrà più. A quel punto salutai ed uscì. Non appena ebbi chiuso la porta sentì una terza risata. In quel momento mi sarebbe piaciuto incontrarne qualcuno. Ritornai al mio posto, suonò l'apertura del sipario. Ernest mi raggiunge. Come vi siete comportato? Mi disse sedendosi. Credono che siate pazzo. Cosa ha detto Margherita quando sono uscito? Ha riso e mi ha assicurato di non aver mai conosciuto nessuno strano come voi, ma non dovete darvi per vinto, solo non concedete l'onore a quelle ragazze di prenderla sul serio. Non sanno cosa sia eleganza ed educazione. Sono come i cani a cui si spruzzano profumi. Loro trovano che puzzino e corrono a rotolarsi in un acquietrino. Dopotutto, cosa mi può importare? Dissi tentando di assumere un tono distaccato. Non rivedrò mai più quella donna. E se mi piaceva prima di conoscerla, adesso che l'ho conosciuta è tutto diverso. Bah, io non dispero di rivedervi un giorno in fondo al suo palco e di sentirmi raccontare che vi state rovinando per lei. Del resto avete ragione, è una maleducata. Ma non è per niente male averla come amante. Fortunatamente si levò il separio e il mio amico tacque. Dirvi cosa stavano recitando mi sarebbe impossibile. Tutto quello che mi ricorda è che di tanto in tanto alzavo gli occhi verso il palco che avevo abbandonato improvvisamente e che le facce di nuovi visitatori vi si succedevano di continuo. Ciò nonostante ero lungi dal non pensare più a Marguerite, un altro sentimento si impossessò di me. Mi sembrava di dover dimenticare il suo insulto e la mia goffaggine. Mi dicevo che avessi anche dovuto dilapidare tutto quello che possedevo avrei avuto quella ragazza e mi sarei arrogato il diritto del posto che avevo abbandonato così frettolosamente. Prima che finisse lo spettacolo Marguerite e la sua amica lasciarono al palco. Nio malgrado mi alzai anch'io. Ve ne andate? Mi chiese Ernest. Sì. Perché? In quel momento egli si accorse che il palco era vuoto. Andate, andate pure, disse. E buona fortuna. O meglio, che abbiate miglior fortuna. Uscì. Sulle scale sentì il fruscio delle gonne e i brusì delle voci. Mi feci da parte e vide passare, senza essere visto, le due donne e i due giovanotti che le accompagnavano. Nell'atrio si avvicinò a loro un giovane domestico. Vai a dire al cocchiere di aspettare alla porta del caffè anglais, disse Marguerite. Andremo a piedi fin laggiù. Qualche minuto dopo, vagabondando lungo il boulevard, alla finestra di una grande sala del ristorante vidi di Marguerite che, appoggiata al bancone, sfogliava una camelia del suo mazzolino. Uno dei due uomini era piegato sulla spalla e le parlava a bassa voce. Andai a sedermi alla Maison d'Or, nelle sale del primo piano, senza perdere di vista la finestra. A luna del mattino Marguerite montava in carrozza con i tre amici. Presi un calesse e la seguì. La carrozza si fermò al numero nove di Rudantin. Marguerite scese e rientrò in casa da sola. Era forse una coincidenza, ma tale coincidenza mi rese alquanto felice. A partire da quel giorno incontrai spesso Marguerite, allo spettacolo, agli Champs-Élysées, e lei sempre la stessa felicità e me sempre la stessa emozione. Tuttavia passarono quindici giorni senza che la incontrassi da nessuna parte. Mi trovai con Gaston, al quale chiesi sue notizie. La povera ragazza è molto malata, mi rispose. Che cosa ha mai? Ha una malattia ai polmoni e siccome non ha condotto un'esistenza che possa portarla alla guarigione, giace nel suo letto dove sta morendo. Il cuore è strano. Fui quasi contento della malattia. Andavo tutti i giorni a chiedere notizie della malata, senza però lasciare messaggi scritti nei biglietti da visita. Così seppi prima della convalescenza e in seguito che era partita per Bagnars. Poi il tempo passò, l'impressione, se non il ricordo parve offuscarsi, a poco a poco nel mio animo. Viaggiai. Relazioni, abitudini, attività presero il posto del suo pensiero e quando pensava a quella prima avventura non volevo vedervi che una di quelle passioni che si provano da giovani e di cui si ride più tardi. Del resto non ci sarebbe stato alcun merito nel trionfare su tale ricordo, poiché avevo perduto di vista Marguerite dalla sua partenza e, come vi ho detto, quando mi passò accanto nel corridoio del Varete, non la riconobbi. Indossava un velo, è vero, ma per quanto fosse velata, due anni prima non avrei avuto bisogno di vederla per riconoscerla. L'avrei potuto indovinare. Ciò non impedì al mio cuore di battere forte quando seppi che era lei. I due anni trascorsi senza vederla, i risultati che quella separazione erano parsi portare, andarono in fumo solo sfiorando nella gonna. Bentornati su narrazioni senza importanza. Finalmente, dopo un lungo prologo, insomma, in cui abbiamo solo alcuni accenni, no, alla storia, entriamo nel vivo e dal punto di vista proprio di Armando e della sua, il primo incontro con Marguerite, un primo incontro abbastanza turbolento, ma come spesso accade, in realtà, trovo che ci sia molto realismo anche in questa scena. Cioè, un uomo che desidera, o anche una donna chiaramente, che desidera fortemente qualcun altro senza però mai averlo conosciuto e si costruisce un sacco di castelli per aria, no, nella mente di come questo incontro deve essere, di come questa persona sia e come in realtà poi si dimostrerà essere questa persona, una persona totalmente diversa da quella che lui magari si immaginava nelle sue fantasticherie romantiche. Ciò nonostante, lui già comincia questa ossessione verso Marguerite, ossessione che sembra poi ridursi, no, con la lontananza, ma non appena la rivede, complice anche forse la malattia che la resa probabilmente più emaciata, più sofferente, e immediatamente riscoppia il desiderio e l'amore. E quindi, insomma, cominciamo questo viaggio nell'amore e nella sofferenza. Come sempre vi ringrazio per essere state in mia compagnia, se il mio progetto vi sta piacendo potete sostenerlo iscrivendovi al canale, mettendo un like, un commento o condividendo il video, potete venirmi a trovare anche su Instagram, narrazioni senza importanza, e come sempre vi aspetto al prossimo capitolo. Alla prossima!